Una e sedici minuti, ultima edizione del nostro telegiornale. Ben trovati, cominciamo subito dalla politica. Il governo ha le prese col caro carburanti. Il decreto varato ieri scontente gestori che stanno pensando ad uno sciopero per la fine del mese e fa infuriare le opposizioni che ricordano alla Presidente del Consiglio che nella sua campagna elettorale aveva promesso il taglio delle accise. Se ieri il governo ha approvato un decreto legge per cercare di porre un freno al caro benzina, fortemente criticato però dalle opposizioni, 24 ore dopo interviene direttamente il Presidente del Consiglio per rispondere alle critiche ed aver cambiato idea sulle accise. In un videomessaggio Giorgio Meloni dice «Non ho fatto marcia indietro rispetto al taglio delle accise deciso dal governo Draghi. Era una misura temporanea. Abbiamo deciso di concentrare i 10 miliardi di risorse per aiutare le famiglie più bisognose. È una scelta che io rivendico». Nel corso dello stesso video poi la Premier fa riferimento alla polemica che si è sviluppata su un suo vecchio filmato con cui prometteva di abbassare i prezzi dei carburanti. Ora spiega «Ma era il 2019, oggi è cambiato tutto». Parole però che finiscono per ridare più vigore agli attacchi delle opposizioni. Dal PD Misiani dice «O Meloni ci prende in giro o ha la memoria corta». Mentre Calenda scrive «Lo avevate promesso nell'ultimo programma». Come ribadisce anche Giuseppe Conte, Meloni ha promesso il taglio delle accise anche nel 2022. Il richiamo delle opposizioni al programma elettorale dello scorso anno che annuncia il taglio delle tasse richiede un'ulteriore precisazione della Premier che spiega «Quel passaggio significa che se hai maggiore entrate dell'aumento dei prezzi del carburante le utilizzi per abbassare le tasse, ma noi, precisa, non avevamo maggiori entrate, ovviamente». Intanto il prezzo dei carburanti scende, seppur di poco, ma gli esperti escludono che dipenda dal nuovo decreto. E i gestori delle stazioni di servizio pensano ad uno sciopero contro il decreto di due giorni fa, anche se per il momento la decisione è sospesa. «I sindacati di settore hanno chiesto un incontro con il governo». Nuovi documenti riservati sono stati trovati in un altro ufficio dopo quelli che erano stati rinvenuti nello studio del Presidente Biden, studio che però il Presidente occupava tra il 2017 e il 2019 quando era docente dell'Università della Pennsylvania. Queste nuove carte, sul cui contenuto c'è il totale segreto, sono state ritrovate non si sa quando né dove dallo staff del Presidente dopo il ritrovamento delle prime avvenuto poco prima delle elezioni di midterm. Sull'argomento la Casa Bianca al momento non ha fatto commenti, ma ne parla diffusamente ormai da giorni. Donald Trump, che aveva portato casse di documenti riservati nella sua tenuta di Maralago e che solo con la perquisizione dell'FBI sono stati ritrovati. Ovviamente l'ex Presidente li sta usando contro l'attuale inquilino della Casa Bianca. Non c'è alcuna prova che ci sia stato un cyberattacco dietro il guasto che oggi ha paralizzato i cieli d'America. Così la Casa Bianca ha spazzato via l'ipotesi di un attacco informatico al sistema NOTAM per la sicurezza, ma è stato ovviamente chiesto di aprire un'inchiesta sull'accaduto. Il blocco del NOTAM ha mandato in tilt il traffico aereo americano. Oltre 1.300 voli sono rimasti a terra, più di 9.000 hanno subito ritardi. Il sistema NOTAM, che serve a mandare messaggi d'allerta ai piloti su tutto ciò che riguarda la sicurezza, è fondamentale per la pianificazione del traffico aereo. Ad aggravare la situazione, il mancato funzionamento di una linea d'emergenza che subentra quando ci sono guasti e che era già stata utilizzata martedì per un problema analogo. L'annunciata conquista di Soledar, dove in alcune zone della città si continua a combattere tra ucraini e il gruppo Wagner, è stata accolta con freddezza dal Cremlino, anche perché era arrivata proprio dal padrone del gruppo mercenario, Evgeny Prigozhin. Nonostante le foto e i video che erano stati diffusi ieri, invece ancora la città non è completamente caduta nelle mani dei combattenti del gruppo Wagner e forse anche per rimettere un po' il suo posto Prigozhin e il suo esercito privato al Cremlino c'è stato un grande rimpasto per quello che riguarda le forze armate. Il comando delle forze congiunte in Ucraina è passato nelle mani di Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore delle Forze Russe. Putin lo avrebbe deciso dopo l'evidente fallimento dell'operato di un altro generale, Sergei Surovichin ribattezzato il macellaio di Aleppo per la mano dura, mostrata nella campagna di Siria di qualche anno fa, comandante in capo delle forze russe oltre i confini ucraini dallo scorso ottobre. Fu lui a ordinare la ritirata da Kherson, strategica città del meridione ucraino, una mossa che di fatto ha congelato la situazione sul campo. L'armata russa, dai primi di autunno, si è infatti concentrata sulla distruzione delle infrastrutture energetiche di Kiev, ma sul campo di battaglia all'equilibrio tra le due parti in conflitto è di fatto inalterato e questo militarmente grazie agli ingenti rinforzi occidentali ricevuti da Kiev sì da prima dell'estate scorsa. Altra decisione del crepolino è stata poi quella di riassegnare il comando delle forze russe di terra al generale Alexander Lapin, tra i primi licenziati dopo la sconfitta in un'altra battaglia, quella di Liman. Il cambio di poltrone sembra dire lo scontro per solidare Bakhmut, città del sud Ucraina, è fondamentale per l'esito prossimo della guerra e comunque del controllo definitivo del Donbass, quindi chi meglio di Gerasimov può, secondo Putin, garantire la vittoria finale? Proprio intorno a questa battaglia in corso sul fronte russo sta creando imbarazzo il gruppo paramilitare Wagner di Eugenie Prigocin, ambigua figura molto vicina a Putin che da ore afferma di aver conquistato Solidar, notizia che lo stesso crepolino si è affrettato a smentire. Insomma la Russia mischia le carte, l'Ucraina chiede altre armi all'Occidente e promette se ci fornirete armi potenti per difendere i cieli, dice il consigliere di Zelensky Podoliak, ci impegniamo a non usarle contro la Russia oltre confine. Ora gli scontri sull'autostrada del Sole tra gli ultra del Napoli e della Roma non è stato convalidato il fermo dei quattro arrestati, si continua a lavorare sull'identificazione degli altri che hanno partecipato a quegli scontri, si va verso numerosi d'aspo, oggi il ministro Piantedosi ha incontrato i vertici del calcio, per ora non si parla di nuove strette se non di ulteriori controlli per quello che riguarda la partita che si terrà a Napoli contro la Juve, ma sembra che si vada invece verso i blocchi delle trasferte per altre squadre. Vediamo. La guerriglia degli ultra in autostrada, tutti liberi, quattro fermati domenica scorsa dopo i tafferugli tra supporter del Napoli e della Roma sulla 1 nella stazione di servizio Badia Alpino vicino Arezzo. Il GIP del Tribunale di Napoli ha rimesso in libertà un supporter del gruppo partenopeo Brigata Carolina, scagionato dal video in cui appare lontano dagli scontri. Il tifoso è stato comunque denunciato per rissa aggravata perché aveva in mano l'asta di una bandiera. Anche per i tre fermati della Roma non è stato convalidato l'arresto. Per molti dei tifosi identificati scatterà comunque il daspo. Polemiche da parte dell'associazione funzionari di polizia, secondo cui le mancate convalide degli arresti sono un fatto grave perché scoffesserebbero la norma contro i reati da stadio. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il pugno duro sulle tifoserie violente. Massima severità raccomanda nella riunione albiminale con i vertici del mondo del calcio. Ma intanto non ci sarà di vieto di trasferta per Napoli Juve di venerdì allo stadio San Paolo, partita connotata da elevati profili di rischio. La vendita dei biglietti era stata ormai quasi ultimata, previsto un rafforzamento dei controlli sui tifosi ospiti. È morto a 78 anni per una meningite batterica. Jeff Beck, il leggendario chitarrista rock, ma anche blues in qualche modo poi sulla strada del punk e dell'heavy metal, aveva cominciato rimpiazzando Eric Clapton negli yearbirds e poi aveva creato un gruppo con Ron Wood, passato poi agli Stones, e Rod Stewart. L'ultimo album lo aveva registrato con l'attore e musicista Johnny Depp. E adesso il calcio la Coppa Italia. Il Torino, agli ottavi di Coppa e Punto, ha eliminato il Milan, battendolo in casa ai tempi supplementari. Per la squadra di Pioli è stata un'altra delusione dopo il passo falso di domenica contro la Roma. I Granata hanno giocato in dieci dal settantesimo per l'espulsione di Gigi, dimostrando un'ottima condizione fisica. La rete decisiva è arrivata dal giovane Michel Adopo al nono minuto del secondo supplementare. Il Torino di Iuri ci affronterà nei quarti la vincente di Fiorentina. Sampdoria a completare questa tre giorni di Coppa c'è poi Roma-Genoa. Era l'ultima notizia di questa edizione della notte, l'una e 26, quasi 27. Noi ci fermiamo qui. Grazie, arrivederci, buonanotte.